l'erba comunque non uccide a meno che tu non ti metti al volante strafato come un bastardo poi anche l'alcol uccide anche il salame uccide se ne mangi troppo adesso parliamoci chiaro c'è la vecchietta di sciacca che ha quei cinque locali perché i nipoti i figli sono andati tutti al nord ci butti dentro cinque mamme di spain neanche ristruttura lenzuola pulite un buon caffè la mattina arriva l'olandese lo spenna vivo 150 euro lei le canne la mattina questo si alza e mangia la pasta cambiamo il significato di airbnb air bocchino e bocchino erba in bocchino questo si alza la mattina e si fa una canna poi si fa la pasta alla norma asciacca questo eh esce di casa che faccio un tuffo al mare aspetta aspetta ci penso io ci penso io ci penso io ci penso io caro ascoltatore so che tu sei rimasto un po' scottato perché l'ultima volta che hai votato un comico non è andata proprio come te la immaginavi tu no? soprattutto in sardegna allora io dico una cosa provate a dare in mano il paese a me è Paolo e Fabio ci mettiamo d'accordo ci mettiamo d'accordo noi rubare non rubiamo non abbiamo bisogno di rubare stiamo già bene noi continueremo a fare il nostro lavoro e tutto ci lasciate in mano il paese a me dai sviluppo e turismo ci penso io eh ok sviluppo lo so campi ovunque fai un verde dall'alto una giungla diventa ma tu hai idea di qualcosa? il colosseo diventa un negozio di erba ma tu pensa solo la Calabria e la Sicilia cosa potrebbero produrre spontaneamente? allora ci sono due soluzioni o ci date in mano il paese oppure ce lo prendiamo con la forza come facciamo? io compro un enorme aereo con una sega gigante sego dalla Svizzera in giù sego tutto faccio sprofondare il paese per una quindicina di giorni andate tutti fuori dei coglioni purtroppo lo ritiriamo su lo risolleviamo con un cric gigante sotto e ripartiamo da zero no poi arrivo a te stop e ti denuncio perché hai ammazzato i pesci hai ammazzato i cardellini nani dell'alto adice adesso noi scherziamo ma ragazzi ma veramente cioè la soluzione è lì da vedere cioè io quando litigo con Fabio è perché secondo me noi dovremmo andare in giro per il mondo purtroppo mandano in giro Razzi che è un povero ebete ma se mandassero in giro una persona con un pizzico di intelletto basterebbe copiare le cose che funzionano negli altri paesi con un paese bello come l'Italia è il paese in assoluto più bello del mondo perché ha tutto cioè sarebbe veramente semplice applichi le cose che funzionano allora la polizia in America funziona perfetto allora applichi lo stesso sistema la tassazione di Monte Carlo funziona perfetto applichi la tassazione l'erba in California sta portando lo Stato a essere in superattivo benissimo applichiamo quello cioè funziona così prendi il 2% 2,4 alle elezioni se fai un programma di questo genere tu dici la gente non vuole quello ma come non vuole quello? non lo vuole non lo vuole perché c'è resistenza nel paese ma che senso? perché se tu ti presenti le elezioni con qualcosa di propositivo la pigli nel culo tu ti devi presentare le elezioni con qualcosa contro allora vinci perché nel nostro paese come all'estero sta funzionando questo cioè tu dici io non saprò fare un cazzo ma lui morirà male e tu dici grande quelli che sono venuti prima li mettiamo tutti all'agonia ma scusa un paese come l'Italia se lo guardi con un'ottica propositiva l'italiano non vuole che stiano bene tutti aspetta fammi finire vuole essere bene lui ah ok ma vuole che il vicino muoia di fame allora sai cosa faccio? io vado in tutti i programmi appassiamo tutti quelli che sanno nuotare bravo quindi qua e buttiamo dentro il mare ok? ha ragione Fabio perché l'italiano è un invidioso di merda spione perché io ti giuro io i miei vicini di casa qua non li conosco neanche li ho visti due volte ciao ciao in Italia quando ti compri la macchina nuova mi ricordo quando abitavo a Montevecchia c'erano i vicini che spiavano no? quando mio padre comprava la macchina nuova ue ti hai visto se comprava la vulva ma che be' ma che be' cioè l'invidia allora te la graffiavano ti dico questo ci sono le onlus le associazioni di volontariato e l'Italia è campione del mondo di volontariato perché noi impieghiamo tantissime persone nel volontariato che si fanno la guerra tra di loro eh lo so leonlus porca puttana gente che si alza al mattino prende ore di permesso dal lavoro per andare a fare del bene litiga con un'altra persona identica ma che c'è un altro nome Cristo di Dio io salvo quelli col cancro e tu quelli con la spina bifida no no prima i cancri no prima la spina bifida e litigano perché è più solidale lo so lo so ma ti rendi conto questo è il paese forse ho detto ho detto un'imprecazione no hai detto due volte hai detto due volte in maniera diversa il nome del signore salakazam salakazam non funziona sono diventato musulmano orca mila comunque per chiudere il discorso scusate se mi permetto in questa bella Italia questo qua il sud Italia manca il lavoro sì erba puttane e ristoranti scavi archeologici mare direi che è la vacanza allora facciamo la locandina elettorale di Paolo noi prendete un'immagine di Paolo e scrivete questi cinque punti fondamentali adesso non voglio assumerti